Milena Vucodic Premio alla carriera Tugli Pani di Seta Nera 2015, ciao Milena Ciao Milena Ciao È un piacere È un piacere averti qua Oh, è arrivato Mario Sesti Sesti, altro che Sesti Proprio ultimo Come stai? Ecco qua, allora Premio Sorriso Diverso alla Carriera dell'ottava edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera 2015 a Milena Vucodic per la sorprendente ricchezza di tecnica talento ed espressività di una carriera che, iniziata con Pietro Germi e Totò, tra gli altri l'ha vista sia indossare i panni di due tra i più popolari personaggi femminili di sempre, la signora Pina, moglie del ragioniere Fantozzi al cinema e la nonna Enrica della serie TV Un Medico in Famiglia sia essere stata diretta da grandissimi maessi come Fellini, Giulietta degli Spiriti e Louis Bunuel il fascino discreto della borghesia Milena A Milena Vucodic premio alla carriera Tulipani di Seta Nera 2015 per aver raccontato la diversità nella sua normalità e nella sua vita quotidiana Grazie infinite è un premio molto impegnativo in una serata molto impegnativa e con un grande impegno e di questo sono molto onorata e vi ringrazio e un premio alla carriera è anche un incoraggiamento per iniziare a fare una carriera No, per continuare No Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti